e dovremmo essere live ciao a tutti ciao un abbraccio a tutti quanti grazie di cuore di esservi uniti a noi anche questa sera sono qui insieme a davide cocco che vedete sopra la mia testa meraviglioso ingegnere aerospaziale pronto a stupirci in tutti i modi e speriamo che questa sera non ci sia problemi audio non ci siano difficoltà audio incrociamo le dita e questa sera vi spieghiamo un po di come funziona un razzo facciamo un passo oltre quello che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo costruito i primi piccoli razzi per riuscire ad arrivare nello spazio e abbiamo visto la differenza tra razzi solidi e liquidi giusto davide sì principalmente abbiamo visto che la propulsione quindi la spinta che danno dall'alto dal basso verso l'alto i razzi a solito sono è più grande di quella dei razzi a liquido semplicemente perché sono fatti in modo diverso esatto uno è un qualcosa che brucia è tipo della gomma e c'ha tanta tanta potenza in pochissimo tempo i razzi a solito tant'è vero che vengono utilizzati come booster in gergo i booster sono dei adesso poi lo vedremo degli stati supplementari che vengono messi a fianco al razzo per aiutarlo nella prima parte della dell'ascesa e poi abbiamo visto quelli a liquido che hanno la loro particolarità cioè che possono essere modulati come un acceleratore di una macchina possono essere messi a spinta massima spinta minima azzerati totalmente riaccesi cosa che con i solidi non puoi fare effettivamente quindi hanno i loro pro e i loro contro dipende da quello che bisogna farci e poi abbiamo visto le traiettorie suborbitali quindi quello che succede se uno va in alto in alto in alto in alto e non cambia nulla nella traiettoria durante l'ascesa è però quello che fa a tutti gli effetti una specie di campana perché nel frattempo la terra sotto comunque il pianeta sotto gira in questo momento invece tu stai costruendo un razzo di stadio quindi 2 stadi due pezzi due grossi pezzoni questa è la prima parte e poi ci sarà la seconda esatto tra l'altro questo per esempio già di suo è un razzo completo cioè al motore allo stadio che qui qui c'è il carburante e c'è il carburante e l'ossidante e poi dopo abbiamo la nostra navicella e sotto c'è questa parte il che si chiama non so se si chiama separatore tocco che c'è un nome in italiano si decuple decuple la pronuncia ok in italiano si separatore semplicemente prende una parte la stacca da tutto il resto del corpo che sembra una cosa da poco ma in realtà ci sono stati enormi lavori e innovazioni dietro e c'è un intero libro che vi consiglio che si chiama rockets and people che è scritto da un ingegnere sovietico che ha lavorato quando era giovane a questo processo a questo a tutto il sistema elettrico e questo sistema elettrico per staccare i razzi lui l'ha inventato perché quando costruivano gli aerei in guerra e i soldati che dovevano tirare la manovela per aprire la baia per far cadere bombe o altro paracadutisti quello che era dovevano manualmente tirarla e spesso ghiacciava ed era un casino perché se ti sottotrovavi sopra all'artico o in siberia e non funzionava poi paracadutisti rimanevano lì quindi alla fine hanno trovato questa soluzione l'ha trovata lui mi è sempre facciato come piccolo aneddoto perché lui l'ha fatto per risolvere un problema ma non si sarebbe mai sognato che un giorno sarebbe finito anche nei razzi anche ora che partono come i soyuz hanno ancora lo stesso circuito elettrico che lui ha inventato ma è più di mezzo secolo fa negli anni 50 anni poco dopo era il 48 49 dopo la seconda guerra mondiale è tutta tecnologia che ci portiamo dietro in chat dicono disaccoppiatore ok giusto nella traduzione italiana di gerbal viene chiamato disaccoppiatore a parte vabbè non l'ho mai toccata la traduzione di gerbal però nella realtà nella realtà delle cose non è proprio così nessuno parla veramente di disaccoppiatore spesso i pollettieri ci sono o bulloni che vengono fatti saltare chiamati in gergo bolloni esplosivi in realtà sono un bolloni che vengono sezionati proprio fusi nel nella parte di attacco oppure ci sono retrora c'è anche retrorazzi un sistema pneumatico come quello della space ex che c'è un martinetto idraulico che a tutti gli effetti entra dentro il motore che vedete del secondo stadio e lo spinge in alto quindi allontana i due stati e quello è un metodo di separazione diciamo tra virgolette totalmente sicuro nel senso non prevede esplosivi non prevede particolato che va in giro che quando a finire il motore eccetera è solamente una spinta la base è idraulica mi pare quindi sì dovrebbe essere un martinetto idraulico tra l'altro ora mi state vedendo mettere delle volte ve lo faccio vedere il razzo che abbiamo costruito dicevo un razzo autosufficiente però di suo è troppo piccolo per andare da nessuna parte non arrivi nello spazio quindi quello che vogliamo fare è fare altri stadi cioè aggiungiamo pezzi e quando hanno finito il loro carburante li lasciamo alle spalle così quello che vanno nello spazio a meno peso morto da portarsi via quindi aggiungiamo un secondo stadio un consiglio ordinali per massa vedi in alto c'hai giusto ma se li ordini per massa c'hai quelli più piccoli con ragione ragione fatti fatti allora questi dopo questo forse conduce ci dovrebbe bastare ma chi lo sa potrebbe bastarci vero e booster le aggiungiamo dopo ha detto la seconda sì sì dopo vediamo qual è la differenza tra mollarci dietro dei booster usati oppure portarceli portarceli con noi anche se sono esauriti fondamentalmente ok adesso c'è un'unica cosa a cui bisogna fare molta attenzione a uno l'ha messo il paracadute sì sì ok quindi questo termico paracadute c'è ok nella checklist di care bar sono le cose principali bisognerebbe vedere se il motore è abbastanza potente per alzarci dal suolo il famoso tvr quindi rapporto spinta peso fondamentalmente quello chi è a casa non lo vede perché sta dietro le nostre due immagini in basso a destra potresti vedere una un'opzione da attivare è quella di farti vedere il tvr il twr questo modo sai se poi alzarti da da terra e se non lo proviamo fa nulla lo capiremo c'è il delta v che sarebbe quanto carburante o meglio quanta velocità ottieni bruciando tutto il carburante che hai a bordo ok quello l'ho attivato e quant'è più o meno totale sono 3.011 metri al secondo tre chilometri al secondo certo conoscendo che herbal probabilmente in orbita non ci arriviamo non ci basta però non lo so non è detto e poi specialmente perché aggiungiamo un altro stadio facciamo tre stadi vuoi darci alla pazza gioia volendo sì però se metti il terzo stadio il terzo motore che metti deve essere molto più come si dice efficiente degli altri no piccolo è il contrario perché quando tu stai fuori dall'atmosfera non ti serve più tanta spinta e spregare tanta energia quindi te ne serve uno piccolino ma che sia efficiente stavo pensando all'equilibrio del razzo se è così alto è quello è un po forse è un po tanto alto proviamo che herbal che herbal sta nel peggiore dei casi ci vedrete esplodere quindi allora facciamo così aggiungiamo un altro stadio quindi aspetta lo mando sopra 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 uno piccolino sì e ce ne aggiungiamo uno sotto quindi ah no allora lo vuoi aggiungere sotto perché uno piccolino c'è già in cima e allora però quello in cui in cima non c'è il motore più efficiente che c'hai sì quello 30 e no ce n'è uno ancora più efficiente guarda mai nei motori davvero se credo di quello quello basso basso ma eccolo questo dovrebbe essere questo sì e pesa anche molto meno pesa molto meno e soprattutto c'ha l'isp più alto che cos'è l'isp è una una misura diciamo dell'efficienza del motore fondamentalmente chi c'ha l'isp più alto è molto più efficiente nel convertire il carburante in differenza di velocità quindi in delta voi quello che ci serve e si misura in secondi c'è tutto un motivo dietro per cui l'isp che sarebbe impulso specifico fondamentalmente si scrive isp però è solo una misura di efficienza basta questo quindi sì volendo ci puoi mettere magari sotto conviene metterci un solido non so o forse di nuovo un altro liquido mettiamoci mettiamoci un un altro liquido così facciamo solo il liquido no mettiamo uno solido vai mettiamo uno solido ok hai fatto tempo provare a leggere se c'è questa qualche domanda interessante fate le domande ragazzi non vi preoccupate allora oggi andiamo su qualche pianeta e non credo non con questo razzo almeno non con tanto se riusciamo oddio quanto è diventato alto comincia ad avere paura a più che altro adesso di suggerci un nome intanto ah sì bravi bravi pensate a un nome siamo scordati bisogna stare attenti all'aerodinamica della cosa perché quello che succederà quasi sicuramente che appena parti qualsiasi mossa tu fai il razzo andando a fare questo quindi a cappottarsi istantaneamente perché non è stabile uno uno dei motivi è perché l'aerodinamica la fisica dell'aerodinamica di carbaspace programma è un po rotta però qui abbiamo per esempio il centro di massa si è quello blu esatto se il punto blu sarebbe il centro di pressione aerodinamico è quello dove agiscono tutte le forze aerodinamiche sta tanto più in alto del centro di massa è instabile naturalmente è come se uno prova quindi secondo te questo è tanto è una cifra instabile è come provare a tenere un quadro chiudandolo verso nel basso qualsiasi cosa tu fai si a cappotta allora abbiamo due strategie o mettiamo delle ali eh sì 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 direi ali ali in basso in modo tale che uno vincola il centro di pressione ad andare più giù del del centro di infatti appena sceso appena abbiamo messo guardate la differenza puntino rosso vedete lassù al blu ok e ora è tra i due tra il centro di spinta centro in teoria andrebbe leggermente sotto anche nella metà inferiore del centro di pressione quindi lo può pure mettere più su le ali effettivamente più qui sì sì ma pure ma pure un più e poi dipende di vedere come come riesce a guidarlo dipende da tante cose da da quanto puoi controllare effettivamente l'ugello del tuo primo stadio se quello è poi di bloccato non hai possibilità di manovra quello di ovviamente dei propulsori a sì proprio ti servirebbe del carburante per gli rcs è vero quindi altri serbatoi oppure cannibalizzare un serbatoio che ci abbiamo e dedicarlo a quello gli rcs per chi non lo sa per chi non lo sapesse sono dei motori di reazione quindi effettivamente dei piccoli razzetti su un razzo ancora più grande che aiutano a spostarlo nella sua traiettoria praticamente se prendessi un razzo questo razzo modello gli rcs vengono piazzati in punti specifici per aiutare è come avere un piccolo dito che ti spinge la punta o la coda un'altra parte da una parte dall'altra quindi sicuramente aiutano a guidarlo però consumano carburante anche loro quindi quello potrebbe essere proviamo così vediamo che succede allora che nomi che nomi abbiamo scelto così a vederlo io avrei pensato tipo a naso nome 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 fate uscire dei nomi il naso gigante manico di scopa mds1 questo mi piace qualcuno dice orbiter 1 vabbè dai orbiter 1 però è troppo che la c'è in realtà voglio dire che diamine qualche nomi stai lo icarus icarus mi fa un sacco rabbia che lo usano in un sacco di missioni tipo in sunshine la missione che va verso il sole e la chiamano icarus guarda la nuova missione le nuove il nuovo programma che va verso la luna no che sarà quello che scende porterà artemis si che porta gli astronauti di nuovo sulla luna negli anni 20 ora nel 24 25 quando sarà e artemis nella mitologia e sorella di appollo è stato scelto per quello no con appollo la grande missione che ci ha portato sulla luna nel 60 artemis ci riporterà sulla luna e la sorella di appollo fantastico solo che di suo la navicella si chiama come modulo orion e orion e artemis orion uccide artemis quindi non glielo dire non lo sanno ancora ora artemis che c'è detto insomma c'è un'uccisione di mezzo ora che l'ho detto a voce alta mi è venuto dubbio che fosse il contrario ma comunque insomma c'è di mezzo la mitologia non aiuta e comunque insomma io la chiamerei appunto mds perché mds aspetta manico di scopa a manico di scopa non ero sul pezzo ok ok siamo pronti vediamo conto l'ultima volta c'è il stadio solido che partirà per primo poi si separa dovreste vedere ora tipo l'illustrazione colorato si illumina la parte si separa poi parte il secondo motore il primo liquido poi questo grosso stadio ci dovrebbe portare fino a non dico grossa parte dell'orbita ma insomma un pochino inclinati e poi l'ultimo quello dovrebbe portarci allora se il mio sogno il mio sogno è speranza e in realtà che arriviamo soltanto inclinati abbastanza da arrivare verso le zone polari non non voglio fare il giro di pianeta ma se arrivassimo al polo nord al polo sud sarei felice però arrivare al polo nord al polo sud prevede che tu non lanci verso est ma che tu devi cominciare a lanciare verso nord sì c'è una volta partito e da dove l'armi e allora non ci arriverai mai aspetta questo è un buon modo per spiegare come funziona nella vita reale perché fare dei cambi di piano nella vita reale quindi non lanciare agli facendo di aiutare dal dalla rotazione della terra ma fregandotene totalmente andando verso i poli è una delle delle manovre delle cose più costose dal punto di vista del carburante che esiste quindi così come nella vita reale anche in kerbal fare una cosa del genere è piuttosto dispendioso però ci si può provare devi ricordarti che invece di spingere diciamo se tu guardi la nabbole quindi la palla centrale devi andare verso verso no no è verso oltre le montagne verso destra vai verso est quindi è giusto tu devi andare in alto in teoria e in alto ci vado è un razzo quindi aspetta non quella non vi confondere vai hai le chiami vai tra l'altro ho messo come come pilota vediamo se si vede la buona valentina perché sono sempre questi uomini mettiamoci di mezzo una pilota e no cosa ho fatto quindi tre due uno guarda il c'è venere zero piano 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 il primo stadio solido qui non possiamo cambiare niente anche se aumento o no tipo quello è quello è sta facendo un sacco fatica questo stadio solido a sollevare tutto il resto del razzo sta andando molto piano su e in realtà si vede per esempio con i razzi più pesanti li vedete andare piano piano in alto non c'è non tutti vanno la stessa velocità i vega sono impressionanti vega i razzi italiani partono molto veloce impressionante quanto stessi il commentatore dice sempre parte sempre con una freccia ebbe tre motori a solido gas perché che t'aspetti che forse lo spara in alto schizzeria più forte che può e siamo già giocato quindi vai quindi questo a tutto regime secondo te o a metà no per adesso sì perché sta nella parte bassa dell'atmosfera questa è quella è quella zona che devi lasciarti alle spalle più più in fretta possibile semplicemente perché è densa è spessa e fastidiosa dal punto di vista aerodinamico intanto sono molto soddisfatto che il nostro raggio è ancora in verticale quindi da questo punto di vista sono guarda stiamo andando quindi verso che direzione mi inclino non lo so quella che vuoi vedi tu se vuoi andare verso i poli devi agire di conseguenza da adesso diciamo sì vediamoci verso di qua e vediamo che se faccio così sta andando giusto 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 ok sì 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 ok diciamo che provando a fare delle manovre ottimizzate uno non deve andare sempre verso l'alto poi girare e cominciare andare in orbita perché vorrebbe dire sprecare talmente tanto carburante che non ha più senso andare in orbita quello che si fa anche se vuoi andare in orbita polare quello poi cambia solamente quanto carburante usi però non cambia l'ottimizzazione della cosa è cominciare piano 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 dopo una certa soglia di altezza che dipende dal peso del razzo dalla potenza del motore da un sacco di cose però diciamo ecco in alto tu vedi i chilometri non so stai 22 chilometri più o meno e c'è quella lancetta al centro che ti dice dov'è che stai nell'atmosfera ecco superata la metà più o meno quindi superata la parte azzurra potresti cominciare infatti già 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 ci sei ad andare piano 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 in orizzontale quindi è una cosa graduale più acquisisce velocità orizzontale e più va in orbita fondamentalmente perché l'orbita si tratta solo di mantenere una velocità orizzontale rispetto alla terra quindi cercare di cadere all'infinito questa cosa mi piace moltissimo perché l'aveva scoperto newton senza nessun bisogno di immaginare razzi cioè o meglio lo sapevamo già da secoli prima un secolo almeno il motore ok vai e ci siamo vediamo quanto stiamo andando bene diminuisci il motore quant'è l'apoggeo quindi il punto più alto della traiettoria 112 chilometri apposta 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 rallenta o spegni il motore o rallenta diciamo che in care bus program è molto netto il confine tra atmosfera e spazio sì 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 non come nella realtà non è una delle grosse differenze quindi qualsiasi cosa lasci rimane così se sta in orbita ovviamente perciò non conviene avere l'apoggeo quindi il punto più alto della traiettoria troppo in alto perché vorrebbe dire spendere più carburante per renderla circolare quindi allora noi siamo siamo quasi la ritorno ci segna sopra le regioni polari ora qui c'è un pollo nord lo sappiamo perché problema grafico perché c'è segnato però io aspetterei fino a qui tipo perché il rientro sicuramente diminuirà un botto questa ecco fino a qui perché quando rientreremo di qua l'atmosfera sposterà questa parte molto verso sì beh comunque l'atmosfera frena quindi quello che lui ha detto c'è c'è una mod di care bus program che ti aiuta a visualizzare gli effetti dell'atmosfera sulla navicella quello che farà l'atmosfera è che ti frenerà a tal punto da deviare la tua parte finale di orbita e quindi a terri un po più corto rispetto a dove atterreresti adesso sai che ora non aiutano però è uguale a vederlo così con tutto il carburante che abbiamo forse ce la facevamo da arrivare in orbita e boh sì può essere ma allora voi tentare di arrivare in orbita o lo facciamo dopo quando mettiamo i booster io direi proviamo a farlo dopo adesso una passeggiata spaziale in realtà già sta nello spazio giusto 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 siamo a 125 chilometri ora le passeggiate spaziali in questo periodo in cui noi replichiamo quindi questa è una navicella mercuri per cui sono quelle dell'inizio le passeggiate spaziali avvenivano avvenivano facendo una depressurizzazione della navicella che è una cosa che fa una paura assurda in pratica toglievi tutto l'aria che c'è dentro la navicella quindi mettevi la tutta faceva gli stessi rumori dei palloncini quando si scoppia mamma mia nelle mercuri se lo sognavano era difficile però in quelle dopo le gemini in cui erano due astronauti si faceva quindi uno dei astronauti usciva fuori faceva le sue cose e l'altro rientrava infatti nelle prime due navicelle spaziali dell'umanità che erano la Vostok quella di Yuri Gagarin da una parte e la mercuri della nasa non si poteva uscire fuori erano troppo semplici hanno dovuto aggiungere un po di roba per farla uscire qui quindi io non ce l'ho con Kerbal però è questa navicella non è giusta per fare leva in teoria perché troppo piccola ma noi la facciamo lo stesso tanto tu vuoi togliere la soddisfazione a un kerbaliano passeggiare nello spazio eccola questa manovra si chiama dottor stranamore e valentina è molto soddisfatta o preoccupata non lo so dalla faccia direi superplessa è interdetta f4 basita proprio sì e noterete che dato che il controllo l'assetto viene fatto manualmente in questa navicella una volta che non c'è lei sta andando cambiando la deriva sta andando la deriva quindi noi la facciamo rientrare anzi facciamo così non togliere il casco rientrare potrebbe essere fatale ridiamo il controllo della navicella e ora possiamo farli ah no mi sono scordato le antenne vabbè possiamo fare il rapporto dell'equipaggio e normalmente si potrebbe spedire a casa ma mi sono scordato di aggiungere un'antenna quindi noi ce lo teniamo tieni l'esperimento e se lo ricorda ok no controllavo se c'erano eco va tutto bene tutto tranquillo tutto a posto guarda non mi stupisco ci riesco quindi non dite niente fino a che non è finita allora c'è qualcuno che chiede una live vecchia no è nuova e siamo in dire cioè adesso devo prendere un giornale tipo quelli delle brigate rosse non è una live vecchia e forse ti riferisci al fatto che avevamo già fatto la seconda parte però era abbiamo tentato di fare la seconda parte la volontà c'era la volontà c'era la tecnica dei mezzi tecnici che non c'era quindi ok fatteci domande riguardo a razzi se ci sono cose che vorreste sapere allora tanti chiedono dove dove vogliamo andare cioè vuoi andare sulla luna andate sui pianeti allora il fulcro di questa piccola serie di di carvassi program insieme non è tanto fare grandissime cose su carvassi program perché di quello ne è pieno il mondo c'era scott mali c'è tutto l'internet che fa questo quello che ci premeva sono molto più bravi di me che esplodo ogni 3 per 2 esatto cioè quello che ci premeva fare era una specie di viaggio insieme e spiegare quello che vediamo in carvassi program diventare bravi in un gioco è un conto capire l'ingegneria o comunque le leggi che regolano quello che si fa e quello che c'è dietro è un altro insomma quindi facciamo delle piccole cose anche magari stupide perché è bravo a giocare a carvassi program però lo facciamo spiegandole quindi il fulcro della situazione è quello esatto allora io nel frattempo visto che piano piano ci avviciniamo alla nostra discesa questa è la zona del polo nord quindi è lì l'obiettivo che ok è più o meno sopra milano il polo nord giusto mi confermi così fa non so se parla la milanese però fa tanto pena te lo sei portato un giubbetto hai fatto portare a valentina un giubbetto perché guarda che è ma infatti va bene vedremo vedremo come se la cava allora nel frattempo quindi appena arriviamo verso la superficie io rimuoverò lo stadio o prima mi ricordo quando viene fatto beh in teoria sicuramente c'è allora dipende nella vita reale o in kerba sono due cose leggermente diverse in kerba puoi fare un po come vuoi fondamentalmente quindi in realtà essendo un motore a liquido puoi anche fare la mandracata e provare a atterrare con il motore senza utilizzare il paracadute ma vorrebbe dire sfracellarsi quasi al cento per cento quindi potresti anche staccarlo adesso per esempio nelle missioni a pollo il modulo di servizio veniva sganciato ovviamente prima di entrare in orbita in modo tale che si allontanasse il dovuto prima di cominciare a disintegrarsi in orbita e esattamente non dare fastidio alla capsula quindi volendo farla realistica la puoi anche staccare adesso e poi diventeresti un proiettile andresti in volo balistico saresti solo una cosa che deve atterrare in qualche modo ma non hai più controllo sulla velocità stavo pensando con carburante che ho quindi te mi dai zero chance di atterrare beh non abbiamo neanche le gambe quindi vabbè no lo puoi far atterrare in verticale cioè quello non è un problema anche senza gambe tanto il motore è basso quindi cioè si però non ha molta forza quindi ho paura che scendendo non riesca a compensare quello è vero questo motore nello spazio se la cava ma insomma in atmosfera ho i miei dubbi si quasi sempre uno bilancia l'efficienza e la spinta non puoi essere molto molto potente in termini di spinta e molto molto efficiente è raro e poi non è detto che sopravviva a quelle temperature il motore no no infatti 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 comunque insomma la runa è lì quindi ha uno schioppo di dita non ci vuole così tanto nella terza puntata magari tentiamo di arrivare sulla runa dai secondo me ce la possiamo fare sì sì quello si può fare però nella terza puntata quello che ci interessava era spiegare la meccanica orbitale quindi tutti i vari cambi di piano le manovre quindi fuori dalla terra fuori da gerbin che succede quindi poi saremo nella luce sulla luna o su mi un tanto meglio terrenge in stile space x space x l'abbiamo fatto nella prima puntata è ripartito e riatterrato diciamo tipo il grasshopper è partito da fermo dalla pianta la cattaforma si è rialzato si è spostato e vi ricordo che nessuno ci credeva in me invece ce l'ho fatta dopo essermi allenato tutto il giorno mi mandava gli iscrin e fa non so se chi è scappato non so bello prova tutto il primo Roberto sta dicendo che ah grazie intanto per le donazioni grazie di quelle ragazze sta dicendo queste sono le cure per Valentina ma guarda speriamo che non ne abbia bisogno a parte per un po' di gello ok io devo iniziare a riordinarmi l'orbita allora qui in basso c'è il punto di il baricentro della navicella per orientarla sì diciamo come chiedevano in chat che sono quei pulsantini che vedi lì rossi e uno verde a sinistra diciamo sono le direzioni in cui può puntare la navicella sono a coppie quindi sono una direzione e il suo opposto quindi le prime due cioè trasciando quella verde che serve solo a mantenere qualsiasi direzione tu voglia quindi non è una direzione particolare e quella che è grigia che sarebbe per fare le manovre ma non stiamo facendo manovre le prime due sono direzione diciamo nella tua direzione esatto in italiano non saprei come dirla prograde e retrograde quindi nella tua direzione della velocità o opposto fondamentalmente avanti e indietro per farla molto molto breve poi ci sono quelle laterali e sopra sotto però in orbita esatto in orbita questo non si traduce linearmente stiamo comunque girando intorno a un corpo quindi nella terza parte dei video quindi boh sabato prossimo vedremo meglio cosa significa in questo caso non c'era molto bisogno di attivare guarda la faccia stoica con cui vive la situazione Valentina eh non la possiamo vedere perché sta dietro la tua faccia stoica è vero è vero purtroppo era o questo o questo purtroppo era una delle due ma per la prossima volta ci vediamo magari ci spostiamo un po' in giro e nel frattempo la nostra vicenda la vediamo tra poco Valentina quando arriveremo sulla superficie noi stiamo a 9000 metri mi raccomando il paracadute sì ah clicca sul destro clicca col destro sul paracadute perché c'è una quota che devi aggiustare magari mettila un po' più alta quella lì altitudine perché il paracadute si apre ma non del tutto si aprirà del tutto a quella qua da là quindi comincerà effettivamente a frenare a quella qua da là io comincerei vabbè non mi ricordo io comincerei il volo in Kerbal dovrebbe essere tipo 70 metri una cosa del genere forse 200 non mi ricordo bene però vedi adesso il paracadute non è aperto totalmente e quando si supererà in questo momento la soglia che abbiamo impostato noi si apre del tutto e comincia a rallentare infatti sei sceso sotto i 10 metri al secondo adesso ci vorrà parecchio tempo però per fortuna su che possiamo aumentare la velocità del tempo di poco perché stiamo ancora dentro l'atmosfera però almeno 4 volte la velocità normale sì e stiamo piano piano scendendo verso il polo perché hanno i poli con il ghiaccio perché qui su Kermin sono molto eco-friendly e quindi non stanno sciopando il loro ecosistema e non stanno causando un riscaldamento globale vedi che bravi che stiamo e infatti non c'è traccia di civiltà da nessuna parte non trovate città o altro in massima efficienza l'unica cosa che c'è su tutto il pianeta è un centro spaziale quindi secondo me c'è una bella storia distopica dietro sono morti tutti e questi sono i pochi che rimangono e vogliono andarsene da Kermin bellissimo e poi sono morti tutti hanno seppellito tutte le città perché sono sparite anche da dallo skyline proprio ecco l'ombra lì oh che bello vedi atterra su una distesa di granita esatto in una posizione molto raccomandabile questo è il motivo per cui di solito questo tipo di discesa veniva fatto preferibilmente in zone molto piatte che fossero acqua o terra come il Kazakistan e la steppa però l'importante è che era molto piatto qui ce l'abbiamo fatta siamo sul ghiaccio e usciamo fuori vediamo ed eccola Valentina sarebbe da chiederle se era più freddo cioè se è più freddo qua o nello spazio però penso che sia scontato rimuovi il casco oh oh è a piantare la bandiera abbiamo toccato il polo nord forse ok la bandiera del lens vabbè non male dai no non male non male sito lo possiamo chiamare come lo possiamo chiamare fa freddo mi sembra fa freddo il testo della targa mettiamo ma davvero d'atto qui una volta era tutta campagna esatto per via del movimento delle placche continentali ah beh sì certo guarda che oh l'hai visto si è messo la mano sul cuore che dolce e ora torniamoci alla casa a piedi è dura eh f e b vai b ok perfetto il nostro centro recupero piccolo la nostra importanza sul mondo l'abbiamo lasciata quindi a questo punto possiamo dedicarci a qualcosa di più impegnativo e proviamo a fare lo stesso tipo di razzo però aggiungendo dei booster giusto? sì praticamente allora adesso abbiamo un unico booster in basso sì che non ci ha aiutato più di tanto si è esaurito praticamente subito quello che dobbiamo provare a fare è magari metterne alcuni di lato al primo stadio quindi separarli poi arrivate a un certo punto farli separare quindi tu diresti questo stadio di rimuoverlo e mettere uno liquido con l'aggiunta di altri solidi intorno? no 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 prova a mettere dei booster a solido utilizzando quello stadio a liquido che c'avevi già scusa sono allergico ai booster allergico all'ingegneria aero spaziale no no spero di no allora abbiamo il disoccupatore radiali oppure vabbè insomma sono due tipi sono uguali metto quelli più esterni quelli che sporgono un po' così per gusti però andrebbero messi sul motore a liquido diciamo quello a solito in basso lo cancelliamo quello togliamolo ok perfetto via e togliamo anche il disoccupatore alla fine se no giusto 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 e il nostro razzo è molto più piccolino ora mh ok quindi aggiungiamo quanti booster? 4? mettiamone 4 va bene 4 più o meno qui e ok quindi non troppo non troppo grandi come questi sì così vada bene ok più o meno alla stessa altezza del motore ok ora questo non sarà esattamente aerodinamico giusto? no decisamente quindi ci mettiamo un tappo sopra eccoci qua ora questi balleranno no dai sono piccini forse non si muoveranno troppo una delle regole non scritte in realtà è quasi scritta come regola di Kerbal Space Program è nel dubbio aggiungi strazze quindi nel dubbio aggiungi quel meccanismo che ti aiuta a tenere ferma la fisica del gioco le antenne aggiungiamo anche le antenne non 4 ci bastano non ci abbiamo pannelli solari non ci abbiamo pannelli solari ma aggiungiamo anche i pannelli solari metticene un paio ok mettiamoli quelli che si possono recuperare e riportare a casa boh sì ci può stare ci sono 3x2 1x6 quali ti piacciono di più 3x2 1x6 boh io preferisco quelli 1x6 che sono molto lunghi lunghi e vanno molto all'esterno non danno fastidio alla struttura che versione del gioco è questa penso l'ultima la 1.9 a naso non sono sicuro ma attento a non mettere eh ok tanto comunque insomma se ne andranno bruceranno per sempre quindi quello ok quindi abbiamo i nostri booster che ci daranno una mano ad andare nello spazio ora aggiungo i strat vediamo se mi ricordo dove sono e le strutture quella con la crew l'icona con la crew giusto giusto eccoci qua ok perché perché si fa questo nella vita reale in realtà non si fa cioè si progetta tutto in modo tale che il punto d'attacco trasferisca tutta la forza al razzo Kerbal non è proprio perfetto da questo punto di vista come da tanti altri però è un modo che usiamo noi giocatori per sopravvivere fondamentalmente perché se no si spappolerebbe tutto dopo vediamo e allora i centri a pagamento è un videogioco comunque sta su stima adesso i mod e poi ci lavorano un sacco ragazzi davvero ogni mese esce qualcosa che hanno aggiunto sistemato riparato si merita tutti i soldi che sì io e Davide ci giochiamo da quando era ancora agli inizi non c'avevamo quasi niente insomma per cui noi l'abbiamo visto crescere però vi assicuriamo che vale la pena allora le aliku dove le metto qui devi fare in modo che il pallino azzurro vada a finire leggermente più in basso del pallino giallo quindi si prova a mettere i booster i booster infatti adesso sta qua nel centro aspetta non mettere quelle ali là aspetta fammi vedere stavo buttando via tutto staccati allora non si stacca più perché? hai visto? non lo so perché che cavolo è successo vabbè abbiamo delle ali e non possiamo staccarle niente abbiamo rotto Kerbal incredibile ora ho detto guarda i bravi programmatori che risolvono per me ora ve l'ho detto vabbè amen ah no no ce l'ho fatto ce l'ho fatto ok a posto la quarta la quarta riga terza colonna è a vuoto no una sopra una sopra no destra quarta riga terza colonna quella è là perché quelle lì si muovono anche sono anche incernirate quindi danno sicuramente un po' più di aiuto in manovra no devi rimettere quello col col peso l'ultimo e il primo il peso ok 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 ora sono tutti e quindi qui è un po' più in basso il pallino blu deve stare sotto il pallino giallo semplicemente perché ok così più o meno sì queste alette è una cosa meno realistica il pavimento esatto per non farlo toccare il pad di lancio ci si può mettere qualcosa in teoria possiamo possiamo usare queste esatto sì ok in modo tale da non toccare le alette poi il bello di Kerbal è che potete sbizzarrivi fondamentalmente nella vita reale se qualcuno proponesse un design del genere verrebbe picchiato talmente tanto forte che preferirebbe andare via sulla luna senza casco quindi quello è poco ma sicuro però il bello di Kerbal è proprio questo è fare delle cose mastotontiche anche con poco senso però che ti fanno divertire fondamentalmente senti questo razzo è abbastanza ben bilanciato o ma mi sembra possiamo fare qualcos'altro cioè facciamo partire prima solo i booster quindi quando questo finisce facciamo partire anche il motore liquido o il motore liquido lo facciamo partire insieme far partire il motore liquido insieme visto che hai quattro booster assolido è un po' inutile spregheresti solo carburante tanto il grosso della spinta arriva dai motori a liquido giusto quindi manico di scopa dai non sembra più un manico di scopa quindi come lo possiamo chiamare? ah non lo so tocca si ispirata alla chat è vero non l'abbiamo chiesto già già sono ragazzi fighissimo ok come mai il razzo N1 era conico ah perché effettivamente è un cono si la base era più un problema ingegneristico di come costruire qualcosa di enorme il Saturn V aveva il vantaggio che la metallurgia americana era leggermente più avanti per alcune cose specialmente la creazione di singole campane quelle che vedete sotto i motori F1 i sovietici ci provarono crearono dei motori molto molto potenti gli NK33 che però in realtà non riuscivano a farli funzionare a singola campana quindi erano a 4 se mi ricordo bene erano 2 2 comunque insomma erano molto potenti quanto i F1 però non erano un singolo campana e questo ha complicato modificato il design e quindi è venuta fuori una roba con una base gigantesca che si stava sottigliando verso l'alto il problema grosso che avevano era di idraulica fondamentalmente di elettronica e sensori e se avessero lanciato qualche altra volta sarebbero sicuramente riusciti secondo me i primi 4 lanci esplosero però se avessero continuato un pochino sarebbero riusciti perché il grosso l'avevano già risolto pizza e figli far parlare tutti quei motori insieme non è infatti la SpaceX ci riesce perché però abbiamo l'elettronica all'epoca non c'era niente di questo non avevi tutti i sensori che ti dicevano esattamente cosa fa ogni motore come ora Elena 9000 ma ho letto prima Salsicciotto con l'otto a numero ho fatto ride Octospace però mi piace Octospace Doctor Doctor Octospace vai questo perché giovo un sacco di Marvel tempo fa quindi è perché i polvi sono creature meravigliose è malvagie ma meravigliose possono svitare i barattoli voglio dire e anche predire chi vencerà il campionato mondiale ma hai visto tra l'altro è meraviglioso il modo in cui cambiano colore è pazzesco hanno tra l'altro un sistema idraulico all'intorno folle perché riescono a galleggiare in modi diversi ci sono alcuni che vivono nelle profondità di cefalopodi o anche Nautilus avete presente Nautilus quello lì nel guscio con la bocca a Zoeyberg quando qualcuno fa così penso solo a Zoeyberg e niente praticamente quelle creature all'interno pompano sangue nel loro sangue cioè pompano sale dal loro sangue per creare una pressione diversa per riempire una stanza di aria all'interno di se stessi quindi immaginate se voi poteste volontariamente cambiare sì esatto immaginate se poteste cambiare la quantità di sale nel vostro sangue così a volontà manteremo tutti carne a volontà senza paura di essi ipertesi e cose del genere quindi noi siamo alla partenza si staccheranno questi e poi partiranno i quattro razzi solidi l'importante è che siano in contemporanea quindi che siano nello stesso slot dell'albero del vabbè questa volta proviamo ad andare in orbita ok forse speriamo sì evviva bello già è partito molto molto più velocemente sicuramente ci aiuteranno tanto all'inizio ora uno potrebbe provare a fare un test che succede se non stacchi i motori a solido e continui con dei pesi morti dietro è vero molto più basso è il motivo per cui stacchiamo 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 fino a che il razzo non diventa molto molto più piccolo semplicemente perché la stadiazione che è quello che ci aiuta a perdere peso del razzo man mano che si va avanti è la cosa più conveniente che esiste dal punto di vista di propellente dal punto di vista della spinta e di quello che riusciamo a mandare in orbita il nostro carburante è quasi finito e tutta questa tutta la parte rossa che vedete è la pressione aerodinamica intorno e oh 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 è un malissimo abort mission no 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 ok allora come vediamo se riesco nuova missione a stile Apollo 13 nuova missione mettere l'astronauta in salvo ah in paracadute Valentina un paracadute sì non so se a questo punto accendere comunque il motore o no vabbè prova tutt'al più ti porti nell'entroterra e cerchi di atterra su terra e non su mare aspetta facciamo così riavia volo eh vabbè non vale no vabbè è una delle belle cose di Kerbal che ti spingi perché sono già le sono già le dieci e un quarto quindi per non per non passare tutta la serata aspetta faccio passare un po' di tempo così c'è luce così ci vedete vedete meglio eh ma probabilmente si ripeterà lo stesso quel problema lì perché quando tu li sganci quelli i motori a solito tendono ad andare così e per quello che di solito vengono messi dei retrorazzi che li spingono via sì quindi in realtà si potrebbero mettere dei se ritorni al volo al volo a b abbiamo delle punte per i razzi con dei retrorazzi attaccati sopra quindi quelli aiutano a spostarsi mettiamo dei piccoli razzi sui nostri razzi in pratica esatto un razzo su un razzo su un razzo che cosa più Kerbal di così no no c'è nella parte aerodinamica c'è proprio delle punte delle punte a cono proprio giù quel l allora no sinistra sinistra quello sotto quelli là non dovrebbero essere non dovrebbero essere quei motori questi no quelli di sopra forse c'ho delle mod che funzionano così no è vero beh allora li puoi prendere dai motori li puoi prendere dai motori come sta a fa prima ci sono i retrorazzi separatron eccoli qua sì questi devi posizionarli bene in cima in modo tale che spingano il gas addosso al razzo che vuoi mantenere vivo esatto e quindi sì eccoli qua questi qui che faremo partire mi fa che li hai messi al contrario eh l'ugello deve andare verso l'alto perché devono frenare rispetto al tuo razzo tu così ah sì è vero se no lo lancio più veloce è nato esatto aspetta come si girano R no R scusami QE QE no VASD prova una di quelle dipende dal dal punto prova S prova AD eh lo devi provare sul razzo però sì aspetta vediamo D D avevi ragione ok perfetto ok quindi questi devono partire esatto partano quando stacchi i motori a solido principali queste qui ok perfetto li mettiamo insieme sì ok questa volta dovremmo farcela ultime parole famose sì capito dimmi dimmi dico la gente sta diventando matta perché abbiamo messo le alette storte sì abbiamo messo le alette storte e succede anche questo su Kerbal però l'importante è che in generale sia tutto simmetrico ah 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 ho trovato qualcuno qui soffre di problemi uh guarda mi piace quando trovo persone che sono devono avere tutto perfettamente in ordine tipo vado a spostarli qualcosa di asimmetrico no è vero è vero non me ne ero minimamente accorto che erano sbilenti non l'ho fatto apposta ma se l'avessi saputo l'avrei fatto apposta farvi soffrire ora gente che si disiscrive in massa e patizzate guarda io sono convinto che noi siamo qui a faticare e cercare di portare la povera Valentina in orbita mentre che non so voi siete a casa sotto una copertina a rilassarvi e a ridere di noi mettiamo avanti più veloce all'alba partiamo fastidio sì sì c'è tanta gente che ha che è estremo fastidio di queste lette ben vista allora la mia parte sadica ogni tanto esce fuori 3 2 1 via ok in mancazza di effetti audio no boom speriamo di no però lo so tutto il resto ah hanno fatto una domanda interessante perché che si usa molto il design asparago ma nella vita reale no allora il design asparago non l'abbiamo fatto vedere bene finora è essenzialmente mettere tanti motori cioè tanti serbatoi e tanti motori al liquido uno attaccato all'altro quindi costruire in verticale ma anche in orizzontale e collegarli tramite dei tubi che fondamentalmente scaricano prima alcuni serbatoi e mano a mano ti lasci i serbatoi alle spalle nella vita reale viene fatto viene fatto con i soliti non molto con i liquidi perché effettivamente date alla mano non è la cosa più conveniente oh ha funzionato guarda che bello Corolio sarebbe orgoglioso di noi no leone merda no adesso sei diventato instabile in una zona ancora predominante dell'atmosfera ancora abbastanza eh ma perché non avevo neanche acceso il motore ok ok ce l'abbiamo fatto abbiamo fatto questa manovra che avete visto l'interno razzo girato su se stesso era previsto viene fatta di continuo siete voi che non ci vedete la manovra alla Adrian parkour parkour dovrebbe essere ti può chiamare la manovra Alice è presente Alice nel paese del meraviglie quando cade giù nel tunnel esatto adesso dovresti cominciare a curvare anzi già è parecchio tardi però ci possiamo provare vai 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 non sarà la partenza più efficiente che esista però ce la possiamo fare prova andare a vedere nella mappa quella orbitale come stiamo messi ecco abbiamo fatto un bel campanone alto questo è un po' difficile da circolarizzare però ce la si può fare dai mettiti quasi quasi del tutto orizzontale eh proviamo a recuperare un po' però stiamo già nello spazio quindi almeno sono un altro zero attrito qui allora chiedono Rob libri sulla storia dei razzi allora io benché parli di razzi studi razzi non ho letto molti libri della storia dei razzi perché studiandole all'università ok sicuramente posso consigliare Ignition che è uno dei libri sulla propulsione più belli che esistono vuol dire iniezione in inglese non mi ricordo l'autore però se scrivete Ignition su Google è più subito giusto quello è ottimo Rocket Boys sicuramente quello di Omer Ican che ha dato cioè è la base del film Cieli d'Ottobre che è anche un bel film su su quelli che hanno fondato il JPL della NASA fondamentalmente il Jet Propulsion Laboratory e non so tu a livello storico sui razzi che consigli io sto sì no questi sono ottimi purtroppo non c'è moltissimo perché di solito l'argomento è un po' di nicchia per cui viene affrontato in altri libri quindi se trovate libri sulla storia dell'esplorazione spaziale di solito contengono anche un capitolo un pezzo in cui raccontano dei razzi ora noi siamo arrivati nello spazio e la nostra orbita dai ce la possiamo fare sì sì però adesso conviene che spegni il motore spegnilo lo riaccendiamo allora perché lo facciamo adesso perché conviene riaccenderlo nel punto più alto dell'orbita perché tutto quello che si fa in orbita cominciamento duro è quello che si farà poi nella terza puntata in orbita qualsiasi azione tu compi si riflette nella parte opposta della tua orbita cioè se tu adesso spari tra virgolette spari ti dice perché semplicemente accendi il motore sull'apogeo allunghi il perigeo il perigeo ancora non c'è sarebbe il punto più vicino alla terra della tua orbita questa non è ancora un'orbita tutti gli effetti perché il perigeo sta teoricamente dentro la terra se adrian adesso lo fa vedere dall'alto dal polo nord diciamo eccolo qua in teoria non c'è un punto più vicino alla terra dell'orbita perché l'orbita va a finire dentro la terra quindi non c'è ancora il perigeo per far uscire tra virgolette il perigeo dalla terra bisogna sparare sull'apogeo quindi aspettiamo di arrivare lì si può anche mandare avanti esatto bravo aggiungere una manovra si può aggiungere una manovra la cosa bellissima di Kerba Space Program è poter pianificare le manovre e qui abbiamo le direzioni che vi dicevo prima quindi quelle gialle sono avanti e indietro fondamentalmente cioè spariamo in direzione radiale rispetto alla nostra velocità è già uscito esatto ha fatto uscire il perigeo e non è una manovra estremamente costosa perché ci siamo quasi alla fine l'orbita l'abbiamo quasi raggiunta quello gli altri gli altri pulsanti quelli di Ola servono a cambiare l'inclinazione dell'orbita è una manovra che di per sé stando alla meccanica orbitale è molto 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 costosa semplicemente perché è il coseno dell'angolo che voglio ottenere quindi dell'inclinazione per la velocità che ho quindi più sono veloce più la mia manovra è costosa in questi termini esatto mentre quelli blu servono a spostare l'orbita rispetto a uno dei due fuochi quindi traslano l'orbita esatto il programma è bellissimo perché fai prima a vederlo piuttosto che a dirlo a dirlo sembro scemo però a vederlo c'ha molto più senso anzi guarda vediamo se riesco perché la cosa bella è che se programmi bene come ti sposterai in orbita puoi programmare anche degli incontri futuri che farai con altri corpi guarda qui non mi riesce volevo arrivare alla luna a vedere se riuscivo a beccare un incontro con la luna ma mi sa che clicca sulla luna col destro e fai target vabbè in inglese non mi ricordo come stava in italiano ok così adesso ti fa vedere quei due puntini azzurri che sono usciti fuori sono i punti di massima vicinanza e da lì capisci dove devi cominciare a spostare la tua orbita esatto allora questo quello che stai cercando di fare è sbagliato è sbagliato semplicemente perché tu stai troppo indietro rispetto alla luna dovresti prima entrare in un'orbita e poi dopo infatti infatti no volevo soltanto approfittarmene per fare troppe cose in una volta sola però intanto circolarizziamo l'orbita e quindi se vedete che la largo da qui a un certo punto questo segno farà il giro e eccolo qua allora la gente chiede la modalità carriera no vero la modalità carriera di Galvest Race Program come ho fatto vedo io su Twitch abbiamo cominciato la modalità carriera da zero è molto molto più difficile perché non hai nulla quindi non hai la possibilità di fare grosse manovre non hai la possibilità di tracciare la tua navicella quindi devi piano 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 conquistarti tutto questa è la modalità sandbox in cui hai tutto sbloccato e devi solo giocare e divertirti fondamentalmente la modalità carriera io comunque la consiglio per chi inizia da zero perché hai pochissimi pezzi e devi imparare a utilizzare bene quelli e mano a mano aggiungi pezzi compri diciamo prendi dei punti scienza sblocchi altri pezzi eccetera esatto ti distrai anche meno perché quando hai le tue opzioni magari non sapete che cosa trovare cosa prendere oh è vero noi non abbiamo aperto i pannelli solari ah già è vero che c'erano i pannelli solari belli 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 questa manovra viene fatta davvero quando si arriva nello spazio si 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 può anche vedere in diretta quando lanciano la dragon della spacex o la soyuz c'è proprio il momento di apertura dei pannelli i pannelli sembrano che si aprano come se qualcosa fosse stato liberato sull'elastico quando mi guarda che li vedo vorrei solo mettergli le mani addosso lucicosi e soffici che poi soffici non sono ora nel frattempo al posto della Valentina io mi morderei le labbra tantissimo in questo momento perché insomma probabilmente stiamo morendo malissimo perché se è nelle nostre mani e io non ho esperienza quindi vedremo può aumentare un po' il tempo e fare subito la manovra è una delle cose che mi dedica al nostro program mancano 4 minuti al nodo respira respira allora qual è stato il miglioraggio dell'attore e perché è bella domanda comunque ti direi il saturno 5 che fino a 1 ora è l'unico che ha portato uomini sulla luna sì credo che esatto anche io aspetta siamo a 17 secondi quando facciamo partire il motore ma sì dipende te lo dice sotto l'accensione deve durare tot secondi quindi a seconda di quanto deve durare l'accensione quindi a seconda di quanto il tuo motore in fretta brucia carburante tu fai più o meno la metà se c'è un'accensione deve durare 30 secondi 15 secondi prima del punto accendi e 15 secondi dopo il punto finisci questo perché nella teoria qualsiasi manovra che fa un razzo è istantanea cambia velocità subito però nella vita reale no bisogna aspettare un po' che la velocità si accumuli che il carburante venga esaurito eccetera eccetera quindi questa è la differenza tra il reale e allora vediamo se ce l'abbiamo fatta sì dovresti essere entrato in orbio sì 338 km per 349 diciamo che ce l'abbiamo fatta guarda sono molto molto più orgoglioso di me e ci manca ancora un bel po' di carburante sono 100 allora adesso veramente proviamo a intercettare la luna dai come regola di base diciamo mnemonica perché il bus program avendolo fatto tante volte è comodo metti la modalità orbitale sì è comodo provare a intercettare la luna facendo partire una manovra da un quarto prima di orbita se vedi tu hai la luna diciamo unisci la luna con la terra tu devi provare a intercettare la luna quando stai un quarto di orbita prima quindi fondamentalmente se questa fosse una pizza fu in meno qui no prima la luna arriverà su quel punto tu la devi oddio scusami sì sto andando al contrario sì 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 devi intercettare la luna in quel punto là esatto sì sì ok quindi partiamo dal prossimo appoggio o no il prossimo perialio no in realtà no prendi prendi lo spicchio della pizza che hai scelto quindi quello in alto esatto riportalo sulla tua orbita riportalo e devi costruire una linea immaginaria tra quel punto che hai scelto e la terra no no sto dicendo tecnicamente dove devi pubblicare in senso pratico sulla tua orbita azzurra sulla tua orbita azzurra non lì no non su perigeo ah ok esatto ah ok scusa pensavo di riferirsi a tutt'altro scusa mi sono distratto da solo anche qui a parole è estremamente più complicato che farlo effettivamente prova ad aumentare la tua orbita e quindi andare a intercettare la luna dovresti un po' di meno no no un po' di meno un po' di meno un po' di meno troppo oh ci abbiamo fatto eccoci qua avremo un peri 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 luna peri selenio in italiano sì tanti scrivono anche grazie di usare termini in italiano effettivamente usare termini in inglese spesso e volentieri è molto comodo a volte è totalmente necessario però fino a che si possono usare quelli italiani apogeo perigeo cioè alla fine non sono nemmeno tutti italiani sono latini cioè la radice delle parole è quella geo terra eccetera poi diventa complicato quando parli di corpi celesti non troppo semplici cioè fino a che la luna la individui come selenio ok aposelenio peri selenio eccetera però con marte diventa già difficile con gli altri pianeti pure quindi poi si parla solamente di apoapside periapside in italiano però poi si parla in inglese soprattutto allora ok andiamo verso la luna ora la cosa più importante è non andare dentro la luna quello è scritto sul manuale che ti danno quando diventi astronauta non dentro la luna non dentro la luna accanto perché devi solo sfiorare e faremo quello che si chiama bye bye sì esatto passeremo se questa manovra va bene a 81 km dalla superficie della luna e poi dopo finiremo in una un'orbita molto più esterna che ci porterà oltre l'orbita della seconda luna di Kerbin che è Minmus e arriveremo fino a 82 milioni di 82 di merda sì questo è il motivo per cui si fanno i flyby spesso e volentieri perché tu dal nulla facendo una manovra molto molto piccola fondamentalmente ottieni un enorme vantaggio in termini di orbita quindi è comodo guarda vediamo divi se ci sono commenti io intanto vedo se il quanto si sto leggendo adesso per i helio apo helio sono per il sole helios quindi sì solo se sta in orbita in orbita solare fondamentalmente avete mai giocato ad observation no non so cos'è gravità sì allora ci sono mille modi di chiamare i flyby io personalmente uso quello perché tutte le volte che l'ho sentito soprattutto in corsi all'università è stato usato flyby c'è chi lo chiama swingby c'è chi lo chiama gravity assist c'è chi lo chiama fionda mille modi diversi dipende da quanto ci sei amico in confidenza esatto il codice fiscale è lungo così c'ha mille nomi diversi allora manca già solo un minuto al nodo e quindi con quello possiamo partire verso la luna in teoria la manovra per arrivarci sono 700 metri al secondo e noi abbiamo di delta v ancora 1689 metri al secondo perfetto quindi in teoria dovremmo farcela senza problemi fino a lì questo pianeta è sconvolgentemente senza nuvole comunque a riprova di quella che è la mia ipotesi che qualcosa di molto drammatico è successo su Kirby esatto il programmatore ha detto no a me le nuvole non piacciono io non ce le metto ci sono però delle mod giusto per raggiungere sì 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 ne ho scaricate un paio adesso le ho messe anch'io astronomer pack anche real solar system comunque ce ne sono veramente tante che fanno diventa Kerbal un gioco agli occhi stupendo molto più bello di quello che è nella realtà è già così ora mancano 20 secondi quindi io accenderei intanto i motori volevo solo dirvi che domani sera sarò di nuovo live perché domani mi confermi anche te Davide il mondo finirà ufficialmente un asteroide colpirà la terra tra l'altro riuscirà a colpirci dalla distanza di 6 milioni di chilometri incredibilmente 16 volte la distanza della luna quindi cioè la luna è viva noi moriamo a 16 volte dalla distanza della luna perfetto ora in realtà io la live la faccio domani così la passiamo insieme ne parliamo di tutto questo però domani mattina sarà già finito il grosso perché il perigeo scusa dell'asteroide penso sia tra poco questa notte ho letto alle 9.56 domani mattina sì dovrebbe essere domani mattina quindi al nostro mezzogiorno però pure io mi ricordavo la notte quindi o hanno aggiornato di poco i dati orbitali e quindi ci passa a mattina vediamo ce l'abbiamo fatta ok sì 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 siamo in rotta di 63 finiremo direttamente in orbita intorno al sole ma ci preoccuperemo di questo un'altra volta sono sicuro che Valentina sia d'accordo nell'andare in orbita solare e non tornare mai più a casa allora vediamo sì sì allora c'è chi chiede se è realistico accendere i motori con i pannelli solari aperti sì semplicemente perché non c'è attrito dell'aria e lo diceva anche nel resto della domanda fa sì lo so che non c'è attrito dell'aria ma non sollecite i meccanismi in realtà no perché innanzitutto vengono fatti per esistere i meccanismi sono fatti per esistere alla partenza che ha un razzo ancora più potente di quello che utilizza nello spazio e secondo poi le vibrazioni vengono smorzate in modi particolari quindi non c'è non c'è guarda che bella scena sì Kerbal regala delle cose spettacolari dal tuo punto di vista anche quando fai i flyby per esempio se tu adesso vai sulla vista orbitale e ti metti sulla luna puoi vedere quanto vicino passi intorno alla luna e quando effettivamente ci sta intorno alla luna vedi che la terra scompare ti passa la luna davanti roba molto molto stile Apollo quindi confermo 11.56 per l'appoggiato dell'astero ok sì allora ho controllato bene ho visto sul sito del CNEOS c'è l'eclisi tra pochissimo in 3 2 questa cosa è stata vista anche dagli astronauti delle missioni Apollo davvero bello bello è una cosa che è molto bella da vedere però agli ingegneri spaziali fa sempre paura quando devono gestire le sonde perché le sonde funzionano a pannelli solari e quindi se finiscono in ombra di qualcosa non è mai una buona cosa l'altro giorno ho avuto la fortuna di fare un seminario online con Paolo Ferri che è il direttore dell'ESOC il centro che gestisce tutte le sonde dell'Agenzia Spaziale Europea in Germania e ci ha detto che lui essendo uno di quelli che controllava la sala delle missioni dell'ESA durante il flyby di Beppi Colombo alla Terra qualche giorno fa Beppi Colombo è rimasto 34 minuti all'ombra e questa era una cosa che per una sonda che è stata costruita per vivere vicino al sole come Beppi Colombo non è bello quindi hanno passato tutto il giorno prima del flyby quindi dello spegnimento fondamentalmente del sole dal punto di vista del satellite a riscaldare gli strumenti a riscaldare tutto quanto il satellite le hanno riscaldato 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 hanno dato fondo alle batterie nel periodo di buio per cercare di tenere gli strumenti a temperatura semplicemente perché una volta che la sonda va finita dietro il cono d'ombra della Terra è freddo non c'è il ritardo termico è pochissimo quindi si è raffreddato istantaneamente e piano 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 le batterie si sono consumate per dargli calore e poi è uscito fuori è andato al sole e ok è andato tutto benissimo allora mi chiedono in cosa mi sono specializzato io sto per finire la magistrale in ingegneria spaziale astronautica la specializzazione è missioni spaziali fondamentalmente quindi quello che mi piacerebbe fare nella vita è pianificazione di missioni quindi più o meno quello che fai in Kerbal più che altro quindi capire cosa devi andare a fare capire cosa ti serve per andare a farlo e cominciare a pre-progettarlo poi anche il mondo dei lanciatori non mi dispiace però sono due cose totalmente diverse quindi boh però il piede in due scarpe per adesso guarda per me l'importante è che tu diventi super famoso così ti danno il momento di entrare a tutte le riunioni e ci manderei tipo i selfie insieme ai personaggi di Fiki ok andata d'accordo specialmente alla IAC che è una vita che spero di andare quest'anno lo fanno per la storia del covid doveva essere a Dubai invece lo fanno online quindi non è ah finalmente capito essendo online probabilmente qualche cosa la potrai vedere anche tu o comunque a livello di stampa di divulgazione stanno parecchi attenti da questo punto di vista quindi tutto si è stato di un anno siamo quasi arrivati alla luna che si sta avvicinando molto velocemente e là in realtà siamo andati molto molto veloci mettiti in modalità orbitale ok vai vicino al peri selenio che lo vedi lì clicca col destro ci dovrebbe essere tipo ah no ancora non lo puoi fare perché ancora devi usci dalla sfera di influenza della terra ok i due colori che vedete quello azzurro e quell'arancione rappresentano le sfere di influenza cioè quello azzurro è sei ancora dentro la sfera di influenza di Kerbin cioè lui che determina la tua dinamica la tua orbita è decisa dalla sua massa quando ti avvicini alla luna diventa arancione vuol dire che è la luna in questo caso o comunque qualsiasi corpo celeste stia da quelle parti che determina la tua orbita e la tua dinamica questo è un modo semplificativo di farlo di ragionare su questo su questo fatto perché non è che intorno alla luna l'influenza della terra smette di esistere o l'influenza di Kerbin smette di esistere però a livello di calcoli ci aiuta parecchio quindi sì no quello che volevo dire è che in realtà tu potevi aumentare il tempo fino ad arrivare esattamente nel momento in cui stavi più vicino alla luna però devi prima cambiare il sistema di riferimento dopo che hai cambiato il sistema di riferimento puoi aumentare ancora di più il tempo sì tanto comunque vabbè siamo relativamente vicini non volevo accederare troppo intanto ecco una cosa bella che si vede è che quando noi stiamo arrivando verso l'incontro con la luna in realtà la luna è dietro di noi è solo che noi finiremo attratti dalla luna bambano che la luna recupererà terreno rispetto a noi e poi finiremo dietro la luna che continuerà sulla sua traiettoria per cui non sempre anche quando si fa il discorso dell'attacco con la stazione spaziale non dovete sempre immaginare che la navicella va direttamente verso la stazione può essere che la stessa manovra viene fatta con la navicella che arriva davanti e poi si gira e rallenta la sua velocità rispetto alla stazione invece di accelerare verso la stazione insomma non è ma non mi ricordo se viene fatta un'ora le navicella in questo modo però insomma a livello orbitale una cosa simile un tempo fa usai un un aneddoto per spiegare come funzionano effettivamente le orbite pensate a una corsa di bici su pista dove avete una giusta elisso etale un po' rialzata perché effettivamente corrono parecchio veloci e tu vuoi andare a dare una borraccia ad uno dei corritori che sta sulla sua bicicletta fiondato a non so quanti chilometri orari non è che corri in mezzo alla pista diretto dritto e gli vai a dare la borraccia perché quello o ti sfreccia davanti o ti prende il pieno quindi in teoria tu dovresti salire in sella a una bici cominciare ad accelerare piano piano e portarti alla sua velocità quando sei esattamente alla sua velocità gli puoi allungare la borraccia lui se la prende e poi rallenti e te ne vai quindi le orbite funzionano nella stessa maniera siamo finiti intanto nella sfera di influenza di Moon ah cavolo finiremo sul lato nascosto del zan 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 che non è nascosto è lì lo potete vedere non è nascosto da nessuna parte e l'acqua esatto e non è vero nemmeno che sta il buio tra le altre cose perché il sole gira ogni 14 giorni quindi sì ma infatti questa cosa non mi è mai tornata perché se chi pensa che succede che insomma magicamente la luna ha un lato scuro sempre buio come si spiega quando è luna nuova qui che succede quando la luna non la vedi è tutta scura qui è illuminata non è illuminata anche dall'altra parte come fa il sole domande che vengono lecite effettivamente cioè puoi farti domande del genere però bastate un'animazione oh intanto volevo volevo ringraziare per le donazioni alcune che mi sono perso grazie di cuore a Roberto a Newcoba grazie di cuore anche a Giulio Di Meglio e Davide Forlano grazie ragazzi un abbraccio fortissimo da entrambi e so magari se mi sono perso qualcuna per strada forse Ninier88 che chiedeva quando ci parlerebbe di astrofotografia beh l'astrofotografia è tosta come argomento sì allora mi piacerebbe molto ma io non ho mai avuto un telescopio che lo so che sembra scandaloso però io di nuovo mi occupo di storie delle storie spaziali quindi se mi chiedete ho un sacco di foto recuperate nel tempo e recuperate anche da riviste o altro di ingegneri che montano sonde sovietiche ma hanno era la cioè quella a tutti gli effetti astrofotografia no no non ho mai avuto un telescopio da usare io quindi lo so usare la base cioè se lo vedo so come funziona so montarlo so guardare qualcosa con il telescopio ma non aspetta diminiamo la velocità intanto questa cioè è palesimente 2000 a 1 di 6 lo spazio no io stavo di Apollo 8 era bellissima ma ci sono che a buio anche 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 sì quindi siamo chissà se possiamo finire in orbita intorno alla luna sì ce l'abbiamo il carburante in teoria con il carburante che abbiamo in teoria ce la dobbiamo fare in questo caso dovremmo rallentare per arrivare in orbita intorno alla luna quindi non più sparare sulla nostra velocità sulla nostra direzione ma in direzione opposta quindi giriamo la capsula e spariamo al contrario esatto chiedevano di program 2 sì sì l'abbiamo visto il trailer eh cavolo sono molto sono molto curioso e un pochino un pochino combattuto semplicemente perché spero che non venga troppo arcade ehm cioè mi piacerebbe che mantenesse un livello alto di io lo spero vedendo quello che hanno detto i sviluppatori dovrebbe mantenere la sua nomea però vediamo insomma accendiamo intanto i motori come vedete li abbiamo accesi nella direzione opposta a cui andiamo e questa è l'ultima manovra se ce la facciamo poi dopo e ci siamo in orbita e aumentiamo che restringiamo ancora un pochino di più ok vabbè tanto volevo semplicemente diminuirla un pochino giusto per darci un po' di spazio di manovra e in questa orbita insomma rimaniamo per sempre intorno alla luna e vediamo se usciamo dall'altra parte in modo giusto questa è un'orbita fortemente ellittica quindi abbiamo una zona dell'orbita che è molto lontana dalla luna e una zona che è molto vicina dalla luna alcune volte le sonde si mettono in orbita del genere perché riescono a fare due cose in due zone diverse cioè vicino al pianeta a studiarlo effettivamente e lontano dal pianeta quindi stando molto tempo al sole poco tempo all'ombra del pianeta stesso inviano tutti i dati a terra è tipo quello che fa giù uno intorno a giove esatto o altre volte per esempio magari una volta la simuliamo anche noi vengono posizionati in orbite in cui possono comunicare sia con la terra che un eventuale equipaggio sulla superficie che è come si pensa di fare con i gateway allora proverò a fare una eva qui vicino eccola qua eva tra l'altro se l'avete sentito nominare ma non sapete cosa vuol dire sta per extravehicular activity veicola sì attività extravehicolare quella che in gergo viene chiamata passeggiata spaziale ma va sicuro che non è una passeggiata non è a detta di chiunque uno dei tanti è parmitano è vero è vero ditelo a lui che era una passeggiata visto che ha rischiato di morire quando era lì allora la prima volta ha rischiato di morire le altre quattro volte si è aggiustato insieme a un altro collega uno degli esperimenti più complicati mai fatti dal genere umano e messi in orbita dal genere umano che sarebbe AMS quindi non so quanto ha sudato in quelle in quelle IDA ma troppo veramente tanto stancante non so quanti chili almeno un paio di chili di liquidi una cosa del genere ci chiedono perché non vogliamo fare gli astronauti la cosa è questa se ci mandano nello spazio penso che nessuno di noi dica di no no cioè andiamo è un altro discorso sì allora intanto con questa manovra dovremmo finire intorno a Kerbin di nuovo e da lì possiamo tornare a casa e in realtà stiamo anticipando un botto di cose orbitali della prossima puntata quindi magari ci mettiamo qualcosa di diverso sì 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 allora ok siamo qui e abbiamo quasi finito quindi tranquilli poi arriviamo so che tutti voi non vedete l'ora di andarvene come sempre basta razzi no intanto vi ricordo appunto che domani sera sarò di nuovo in live e poi sarà l'ultima live per una settimana non ci vediamo per un'intera settimana e voi direte oh meno male o magari qualcuno dirà no fate riposare questo ragazzo che ne ha bisogno sì esatto fondamentalmente è quello vorrevo semplicemente prendermi una settimana anche per per riprendermi per i ritmi di lavoro intorno a tutto questo sono stati folli io da quando è iniziata la quarantena che faccio live di continuo e non solo qui ma anche invitato altrove su twitch eccetera quindi una settimana è basta giuro però insomma ne ho bisogno perché il nostro nodo è finito in mezzo a nulla non lo so ho accesso i motori per sbaglio no però probabilmente ha glitchato qualcosa dal punto di vista orbitale a volte succede quasi sempre conviene cancellare la manovra esatto e rifarla e rifarla da capo andiamo e sì gli serve una settimana di vacanza e se ti vediamo online abbiamo detto con gli altri gli altri mod ti veniamo a picchiare sì potete vedermi potete vedermi online semplicemente soltanto su su steam esatto bravo al massimo quello a proposito di steam io il 30 o il 30 è il prima sera ma adesso ho ancora dovuto decidere su twitch proverò un gioco in beta molto carino si chiama Mars Horizon è una sorta di appunto simile care about space program però allora innanzitutto la grafica è molto molto figa è molto fumettosa ben definita e sembra veramente ben fatto è un po' più gestionale del tipo strategico gestionale più che sandbox tipo care about space program però è aperta la beta per una settimanella ci si può scrivere sul sito di Mars Horizon fino al primo maggio per avere la beta e penso di provarla su twitch se mi assiste la linea se no uscirà tutto a quadrettoni e poi basta lo vedrete su youtube da qualche parte però se vi interessa il genere care about space program quel gioco ve lo consiglio sembra parecchio interessante come si chiama adrian su steam amebba anarchica no ho cambiato nome così mi trovate più facilmente adrian l4u no io volevo amebba anarchica ormai mi piaceva anche a me e invece quando quando ero molto 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 piccolo giovane eccetera avevo iniziato a fare queste cose le mie prime due nickname per steam giochi altre cose erano amebba anarchica perché insomma le amebbe sono sono fighissime anarchiche sono parecemente anarchiche bene anarchiche dentro di me dall'altra parte dell'altro si chiamava cricetto paranoico tutte cose tranquillissime proprio mi piaceva l'idea di un piccolo cricetto però si strappa i capelli paranoico mi guardano mi guardano mentre sono nella mia ruota sono convinto che mi guardano e ha ragione allora noi intanto siamo finiti per la nostra manovra intorno a kerbin quindi ce l'abbiamo fatta vediamo se riusciamo a lasciare la luna siamo per ritornare a casa in teoria qui vediamo la luna se ne sta allontanando noi abbiamo il nostro nuovo nodo e quindi a questo punto ci rimane soltanto una sola cosa da fare e cioè abbassare la nostra orbita esatto aspettare di ritornare sull'apogeo quindi sul punto più lontano rispetto alla terra e abbassare il problema appunto che se noi facciamo la manovra qui ci servirà molto più carburante perché dobbiamo abbassare tutta quest'orbita da qui fino a lì mentre da qui possiamo usare meno carburante perché siamo più lontani dal pianeta è il motivo pratico per cui ci conviene trovare gli asteroidi molto prima perché più li trovi lontani meno carburante dell'energia ti serve per deviare leggermente l'orbita una piccola manovra qui lontano avrà dall'altra parte effetti più grossi mentre se aspettiamo se l'orbita fosse piccola e volessimo deviarla anche di poco ci serverebbe molto più carburante la magia del dicono se la lasci in orbita potresti salvare potresti progettare una missione per salvare e recuperare la povera Valentina vero però il rendezvous in Carbassus programma innanzitutto il live è una follia perché ci impiegherebbe troppo tempo poi è una delle cose più difficili che esistono detto da chi ha tipo 700 ore quindi sì è difficile fare il rendezvous in generale quindi no magari quello no lo utilizziamo per spiegare non tanto per far vedere come si fa al meglio una manovra diciamo vero che Razzi no allora mi sono perso Marzorai sono sempre in inglese beh allora innanzitutto è in beta adesso quindi ci sta che un gioco in beta non esca in tutte le lingue possibili e immaginabili poi chissà che un giorno non venga tradotto pure che il bus space program all'inizio era solo in inglese e la comunità italiana l'ha tradotto fondamentalmente qualche ragazzo stavo pensando di fare una cosa visto che sono già quasi le 11 facciamo così noi abbiamo già stabilito la nostra orbita e la prossima volta possiamo riprendere da qui facendo vedere di nuovo l'orbita in cui siamo come siamo arrivati l'ultima parte della manovra riportiamo a casa Valentina e quindi ripartiamo da qui per fare l'ultima parte ok gli hai fatto portare da mangiare a Valentina perché è lunga da qua la prossima volta è lunga ma la vedo voi non la vedete ma la vedo molto molto sorridente lei sta benissimo nella sua navicella vede la terra la terra insomma Kermin eccola lì in lontananza questa è tutta la sua vista e questo è tutto lo spazio che ha perché siamo stati dei folli che l'hanno mandata in una Mercury fino alla Luna e dovrà stare è già da due giorni in viaggio in una cosa delle dimensioni di una cabina telefonica quindi non so se sta sorridendo perché sta mostrando i primi sintomi di follia spesso e volentieri puoi vedere i gerbagliani che hanno gli occhi che puntano in due direzioni diversi quindi comunque ci convivono piuttosto bene con la follia sì direi di sì allora a questo punto quindi noi ci salutiamo grazie di cuore per essere rimasti fino all'ultimo come sempre grazie anche a te Davide di esserti prestato a questa cosa e di averci raccontato di tutto e di più e noi ci vediamo la prossima volta domani sera per appunto una nuova live finale in cui passeremo insieme un po' di tempo a parlare dell'asteroide che ci ucciderà tutti domani mattina a mezzogiorno circa mezzogiorno guardate in cielo se vedete una palla rossa esatto come in meme sui dinosauri e non fate niente però domani mattina alle ore 7 domani mattina alle ore 7 sono in realtà in live con il trio Medusa su Radio DJ 7 e 10 quindi se ascoltate Radio DJ sarò insieme al trio Medusa a parlare appunto dell'asteroide al mattina quindi ci sentiamo in live ok ce l'abbiamo fatta per il resto grazie ancora di cuore per tutto il supporto se vi iscrivete a Patreon vi ricordo che facciamo delle serate in Netflix Party e stiamo decidendo ora quale sarà il prossimo film da vedere abbiamo visto Apollo 13 e abbiamo visto Interstellar la volta scorsa e ora stiamo ragionando su quale è il prossimo grande film da vedere insieme per cui se volete aggiungervi non solo vi beccate una chat vi beccate prossimamente i podcast che arriveranno un sacco di merchandise che appena potremo spedire cose perché ora è tipo non si può però prima o poi e inoltre avete anche appunto la possibilità di guardare insieme a noi film e più che altro sosterrete il canale e manterrete vivo con la possibilità di fare un sacco di altre cose ah ecco ultima cosa il 7 maggio se mi confermi anche te Davide c'è il lancio il nuovo lancio Sterling giusto? in teoria si se non viene rinviato per qualche motivo meteo cose strane in teoria si esatto se ve lo state persi il 7 maggio vediamo un altro lancio di un razzo SpaceX un Falcon 9 che se mi ricordo bene è già stato lanciato quattro volte quindi dovrebbe essere il secondo tentativo di lanciare un razzo e recuperarlo per la quinta volta l'ultima volta non ha funzionato perché il razzo poi dopo è precipitato in mare invece insomma non mi ricordo quale fu il problema il motivo pare sia stato che un sensore abbia preso fuoco perché dell'alcol che è stato utilizzato per pulirlo si è incendiato non lo so Musk ha dato questa spiegazione nessuno di noi ha capito se era vero o no sembra plausibile mi sembra un po' una cazzata però sembra plausibile quindi ok voi comunque insomma non guidate razzi con alcol a bo no non bevete quando guidate razzi ok detto questa l'ultima la serata noi ci salutiamo grazie di cuore aspetta dov'è ho sbagliato no musica ecco di qua grazie di cuore grazie Davide ci vediamo presto un abbraccio ciao ciao